Come modificare le impostazioni della modalità di ibernazione in Windows 11 sui notebook HP. La modalità di ibernazione consente al computer di spegnersi, ma di mantenere aperte le applicazioni in uno stato di basso consumo. Questo video spiega come personalizzare le impostazioni della modalità di ibernazione in base alle proprie preferenze. Dalla schermata iniziale, selezionare l'icona di ricerca, digitare Pannello di controllo e selezionarlo dai risultati. Nella barra di ricerca del pannello di controllo, digitare Opzioni risparmio-energia e selezionarlo dall'elenco dei risultati. Selezionare Specifica cosa avviene quando si preme il pulsante di alimentazione o Specificare cosa avviene quando viene chiuso il coperchio. Si apre il menu Definire i pulsanti di alimentazione e attivare la protezione con password. Da qui è possibile attivare la modalità di ibernazione quando si preme il pulsante di alimentazione o quando si chiude il coperchio del notebook, se alimentato a batteria o collegato alla rete elettrica. Per attivare la modalità di ibernazione come opzione nel menu per il risparmio di energia, selezionare Modifica le impostazioni attualmente non disponibili. Se non è selezionata, selezionare la casella di controllo accanto a iberna, quindi selezionare Salva modifiche. Quando si seleziona l'icona dell'alimentazione nel menu principale di Windows, iberna viene visualizzata come opzione. Fare clic sulla scheda Playlist di YouTube per visualizzare i video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP.